Apparentemente esiste un bug, un exploit tramite il personaggio di Kavin Genshin Impact che rimuoverebbe per sempre dal vostro account alcuni elementi importanti come chest, come zili, come puzzle all'interno del vostro account. Andiamo a vedere che cos'è questo bug e come prevenirlo. Ciao ragazzi, io sono Alzer Gantis e benvenuti in questo nuovo video. Questo video l'ho fatto principalmente per dare conoscenza di un problema che avviene per ora solo in Cina, non in Europa e non per creare panico generale che purtroppo già c'è, quindi tanto vale, parliamone, parliamone seriamente in modo tale che chi comunque è molto spaventato possa sapere e trovare delle contromisure o fare dei piccoli accorgimenti. Detto questo, è stato trovato un bug in questi giorni nei server cinesi che mostra il buon cave far sparire oggetti in gioco, ma non la scatolina, non il pezzo del drop-in piccolino, il frutto, no. Elementi grossi, elementi importanti, chest, luxury chest, zili, addirittura guardate qua, vedete questo pezzo di puzzle che potete fare col geo? Boom, kaput. Vi faccio vedere il video così vi fate più o meno un'idea. In questo video vediamo che c'è un cave in uno dei shrine che con una skill, utilizzando la sua skill, fa sparire il luxury chest. Il luxury chest in questo caso è sparito per sempre, non è sparito per un po', bisogna relogare, bisogna reinstallare Genji, è sparito per sempre sul vostro ID account. Ad esempio qua invece vi toglie la quest, vi toglie la quest per ottenere i soldi, vedete? Arriva cave, skill, boom, kaput, sparita. Come è possibile una cosa del genere? La cosa è principalmente una, ovvero da solo cave non può far sparire le cose. Quindi non è che adesso voi loggate e fate una skill di cave su una casa e la casa parisce. No, è l'unione a quanto detto da Reddit tra l'utilizzo di funzionalità della skill di cave più un programma di hacking malevolo. La somma di queste due cose porta a poter utilizzare in questo modo il povero cave. Quindi la E è soltanto lo strumento che permette il trigger di questo programma di hacking. Quindi non è che se adesso avete un amico col quale avete giocato, amici con quelle giocate che entrano nel vostro mondo e vi faranno lo scherzone, che mettono cave. A questo punto dovete gridare di essere finiti. No, avete giocato fino a ieri con Giovanni e Giovanni entra e dice oggi uso cave. Non è che dite oh mio Dio, no. Continuate a giocarci. Questo non è un problema. Anche perché attualmente non abbiamo informazioni che questo bug sia stato fatto o abbia avuto degli casi anche fuori dai server cinesi. Attualmente sappiamo solo nei server cinesi. Detto questo, apparentemente tutta la storia nasce da un utente che si ritrova, come potete vedere, prima il pillar e poi dopo la ID cave non più il pillar. Prima un cannone e dopo la ID cave non c'era più il cannone. Quindi cosa ha fatto? È andato da Mioio e gli ha detto Ehi, mi è successo questo. Non gli hanno creduto. Quindi gli ha fatto un video e ha messo il video online spreddando che potrebbe esserci questo problema. Inoltre sembra che qualcuno abbia anche postato nei comment section dei problemi simili. C'è stato un piccolo update, qua viene detto nell'articolo, che però non ha fissato il problema che è stato menzionato. Quindi attualmente Mioio sicuramente ne ha il corrente, ma non ha ancora fatto niente per aggiustarlo. Sicuramente farà qualcosa per aggiustarlo, perché questa è una cosa enorme. E ricordatevi che quando affliggono la Cina, le cose diventano sempre più importanti per loro e sono molto più celeri. Però tutto questo chiaramente ha tirato su un po' di vespaio e ha fatto in modo che le persone cercassero di avere più informazioni e mandando tutti nel panico. Motivo per il quale facciamo questo video. Non per ancora impanicarvi di più, anche perché ho visto sul mio Telegram che tutti lo state scrivendo e avete paura. Facciamo una cosa. Regole buone, ora da fare per magari un paio di giorni. Non giochiamo in co-op con chi non conosciamo. Non facciamo prendere scherzoni a chi usa cave. Non cerchiamo magari di usare cave per qualche giorno, anche se non ha senso. Però giusto per essere super tranquilli e magari non logghiamo nei server cinesi se abbiamo paura che qualcosa accada. Punto. Non c'è molto altro da aggiungere. Vedrete che in tempo, poco tempo, verrà gestato. Anche se fa abbastanza pensare il come sia potuto avvenire questo e il come agisca. Perché se ci pensate non è qualcosa relativo al client. Perché se tu scarichi il client di gioco, quindi lo reinstalli, lo installi su un altro PC o lo pulisci, fai una frammentura, cioè fai proprio, cancelli tutto l'hard disk, rifai tutto, rifai... No, è legato all'ID. Cioè comunque anche se voi giocate da un'altra parte, loggate da un'altra parte con l'ID vostro tecnicamente questa cosa avviene e rimane permanente. E io non ho idea a livello tecnico, cioè è una domanda che mi pongo, come caspita sia possibile che vada a lavorare sull'ID del giocatore invece che su dei dati di gioco presenti sul computer o sul cloud. È una cosa di cui alzo, alzo le mani. Però, l'ultima cosa, cave non cancella gli asset di gioco da solo. Questo exploit può solo avvenire quando si usa la congiunzione di tools di terze parti non disponibili al pubblico generale. Quindi cercate di non temere e vedrete che andrà tutto bene. Detto questo, se avete domande, se vi è successo, se avete perplessità, scrivetele pure nei commenti. Cerchiamo di prenderci carico di questa cosa a livello di community e vediamo nel caso, se fosse successo da qualche parte in Italia, di farlo rendere noto subito. Va bene? Io vi ringrazio e vi auguro un buon weekend. Io avete stato Zerga. Ciao belli! Ciao!